Questa storia si può raccontare in molti modi. Il più facile è segnalare la giravolta di Beppe Grillo, che ha sempre avuto la fissa della tecnologia e della scienza travestite da spettacolo o viceversa. Oggi ha sottoscritto un patto per difendere la scienza dei giochi politici, lanciato da Roberto Burrioni, l'immunologo che combatte in rete quelli che rifiutano la necessità dei vaccini. Molti di costoro hanno votato 5 Stelle e in queste ore è tutto un ribollire di accuse a Grillo. Traditore, venduto, eccetera. D'altronde è facile pescare in rete quello che diceva qualche anno fa. L'unico paese al mondo dove esistono 10 vaccini obbligatori è l'Italia. Obbligatorie? Ti curano obbligatoriamente. Vabbè, un comico che fa le giravolte e fa il suo mestiere. Intanto però ha fondato un movimento. Invece Burrioni è uno scienziato che si è messo a fare divulgazioni in rete e quindi esulta per aver unito la firma di Grillo a quella di Renzi, che mette in cima l'elenco in cui ci sono ovviamente scienziati, ma anche un noto giornalista come Enrico Mentana, che viene accomunato proprio a Burrioni per come distrugge gli interlocutori sui social dall'alto della sua superiorità. In gergo si dice blasting. Ma la faccenda è complicata, un intreccio di paure, interessi, informazione e disinformazione. E lo scienziato, dice Levi Strauss, citato da Grillo, non è l'uomo che fornisce le vere risposte, è quello che pone le vere domande. Forse vale per tutti, anche noi giornalisti. E quindi, qual è la posta in gioco? Tener fuori la scienza dalla politica o farla rientrare nella vita di tutti?